Una grande manifestazione di protesta, quella di oggi, oltre un centinaio di persone sono venuti qua a portare la loro rabbia, la loro protesta, la loro indignazione con un'azione diretta davanti alla sede di Halles e di Mantovani. Halles sta portando avanti un progetto che è assolutamente dannoso e devastante per il territorio. Mantovani, che sono i padroni di Halles, hanno un ruolo determinante dentro questo territorio, ma anche a livello veneto, sulla questione dei rifiuti, ma anche delle grandi opere. Tutte questioni devastanti e assolutamente preoccupanti per la salute e per la qualità della vita delle persone. Questa perciò è stata una manifestazione di lotta. Ci ritorneremo perché indubbiamente il progetto Halles va bloccato, come va bloccata anche la scelta della Regione, che nell'ultima giunta regionale ha deciso l'approvazione del progetto Halles.